allora ragazzi buongiorno buon sabato che è successo che è successo fino a ieri visite mediche sabato sarà a lecce e dalla prossima settimana inizierà ad allenarsi con i compagni quindi che è successo hanno cambiato l'allenatore proprio questi due giorni la zeta calma si cambia l'allenatore cambia l'allenatore e salta tutto noi non ci prendiamo più de witt perché è cambiato l'allenatore ma io non lo so guardate davvero stavamo facendo un affarone io non ci credevo non ci credevo poi come ci ha spiegato anche calcio lecce sarebbe stato un doppio affare perché al momento della firma già questo qua valeva il doppio e lo stavamo prendendo per niente per un pacchetto di noccioline adesso ce lo fanno ci scappa questo affare perché perché questa squadra cambia l'allenatore e quindi giustamente quello dice aspettate voglio vederlo prima e mo che lo vede non sapete con cosa lo fa partire col coso la col coso vabbè io non ne dico parolacce lo sapete però davvero non me la sto sentendo scendere questo era davvero forte 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 e ci sta sfuggendo di mano così come se niente fosse non me la sento scendere che brutto che brutto così solo noi abbiamo questi intoppi le altre squadre vanno si prendono il giocatore torno noi abbiamo questi intoppi non dipende c'è questi intoppi poi non dipendono da noi e ci mancherebbe casomai pensate che è solamente sfortuna questi cambiano l'allenatore proprio nei due giorni in cui questo qua deve venire a lecce ed è brutto brutto va bene ci sentiamo in giornata vediamo i risultati delle partite e li commentiamo ciao ragazzi